Beautiful, anticipazioni puntate del 5 ottobre 2024. Brooke e Taylor lo confessano, amano ancora Ridge. Brooke e Taylor confesseranno i loro veri sentimenti per Ridge e non sarà una sorpresa. Taylor, davanti al padre di Hope, ammetterà di essere ancora profondamente innamorata di Ridge. Brooke invece confesserà a RJ di amare ancora suo padre e di considerarlo sempre l'uomo del suo destino. Questa confessione finirà per mettere le due donne di nuovo una contro l'altra?